Litigavano per lo stipendio, improvvisamente un 42enne di origine cinese ha afferrato una mannaia cercando di uccidere il datore di lavoro suo connazionale. Ha colpito l'altro, un trentenne titolare di una pelletteria di due anni più giovane, con alcuni fendenti al petto e alle braccia, utilizzando un'arma lunga circa 30 centimetri. Poi ha fuggito a piedi nei boschi fiorentini vicino all'astra a Signa, dove sono accaduti i fatti. Ma poche ore dopo l'orientale è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Signa, che lo hanno sottoposto a fermo. Ma poche ore dopo l'orientale è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Signa, che hanno sottoposto a fermo l'uomo, irregolare in Italia, con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è stata invece trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni di Dio. Non è in pericolo di vita grazie alla rapidità dei soccorsi. I militari sono riusciti ad identificare subito l'aggressore, appunto un dipendente della vittima. Le ricerche del fuggitivo sono state stesse all'area urbana e alle campagne nei dintorni di l'astra a Signa. I carabinieri hanno sorpreso il 42enne mentre camminava a piedi su una strada secondaria in località Ginestra Fiorentina in direzione di Montelupo. I militari hanno anche rinvenuto in un torrente l'arma usata per l'aggressione. L'arrestato si trova attualmente nel carcere fiorentino di Sollicciano.